Musica Buia a tutti ragazzi, sono Valentina, benvenuti in questo nuovo video come avete letto dal titolo qua sotto, oggi torniamo per fare un nuovo focus on di una nuova serie che è iniziata durante questo mese di maggio una serie che tutti quanti stavamo ampiamente aspettando e ovviamente come avrete letto dal titolo siamo qua per parlare di Carcaptor Sakura Clear Car il primo volume della seconda serie dedicata alla maghetta diciamo più famosa creata dal gruppo delle Clamp questo volume me lo ha gentilmente omaggiato Star Comics che io ringrazio tantissimo ovviamente come sempre per la disponibilità lo potete trovare in fumetteria da più o meno metà di maggio, prezzo di copertina di 4,50€ per un'edizione standard diversa da quella che era la Perfect che era uscita qualche anno fa, però comunque il packaging è praticamente uguale a quello per darvi un attimo un'idea delle dimensioni, questa è la Perfect, questa è Clear Car, è praticamente veramente molto più piccola quindi insomma vicini stoneranno un pochino, però almeno il packaging è comunque uguale, ha mantenuto la versione comunque uguale a quella giapponese che ci piace molto. Attualmente in Giappone conta 6 volumi in corso ed è edito da Kodansha, mentre qua in Italia come ben sappiamo è edita da Star Comics e il secondo volume lo vedremo ad agosto, quindi comunque avrà una cadenza trimestrale ci sta, perché comunque insomma in Giappone è ancora in corso e non ci sono tantissimi volumi all'attivo per ora conosciamo tutti molto bene la storia della piccola Sakura Kinomoto e del suo incontro con Kero-chan e le carte di Clou e tutto quello che questo l'ha portata a vivere all'interno di quella che è stata la prima serie di Sakura però se volete fare un piccolo ripassino prima di leggere questo volume qua, vi lascio nelle schede il link al mio post sul blog che ho fatto qualche giorno fa per dare un po' una rinfrescata pre-lettura di Clear Car perché questo volume parte esattamente nello stesso punto in cui si è fermato il dodicesimo e ultimo volume di Car Capture Sakura come ben sappiamo tutti quanti ormai Sakura frequenta le scuole medie, è ormai cresciuta le carte di Sakura sono ormai tutte quante in suo possesso e sono state tramutate proprio grazie alla sua magia Shaoran purtroppo sta ancora a Hong Kong e Sakura si prepara a vivere una nuova giornata insieme alla sua famiglia e ai suoi amici un giorno mentre ne andrà a scuola scoprirà intanto che Shaoran è tornato ma anche una nuova minaccia si aggira all'interno della città che la vedrà protagonista infatti dopo aver fatto un sogno molto strano con al suo interno una figura sconosciuta e incappocciata Sakura scoprirà che le carte hanno qualcosa che non va, sono diventate trasparenti, fredde non emanano più alcun tipo di magia e strani e misteriosi eventi la vedranno di nuovo protagonista questo sostanzialmente è l'incipito di quella che è la storia che possiamo leggere all'interno di questo primo volume ed è proprio oltretutto l'incipit proprio di questa nuova saga che vede Sakura come protagonista non è la prima volta che entriamo anche qua in Italia in contatto con questa storia perché già è stato portato anche l'anima da Yamato Video lo potete trovare tranquillamente qua su Youtube, subato in italiano usciva lo scorso anno fra l'inverno e la primavera del 2018 e conta attualmente 22 episodi quella serie è conclusa però in teoria dovrebbe esserci anche un seguito perché insomma si è conclusa con un cliffhanger, non certo ecco, da poco ovviamente il tratto riconoscibilissimo delle Clamp risalta proprio letteralmente all'occhio già a partire dalla copertina che si rifà già un po' di più a quello che è il tratto vecchio delle autrici mentre leggendo l'opera ci si accorge che comunque si ha un po' un misto rispetto a quello che è il tratto nuovo delle Clamp che è un tratto sempre molto dolce ma più basilare rispetto a quello a cui magari eravamo abituati a leggere le loro prime opere unito un po' ecco anche a quello che è il loro tratto che caratterizzava proprio le loro opere degli anni 90 quindi si può tranquillamente notare un po' un minestrone, un miscuglio fra le due tipologie di disegno che comunque mi ha reso la lettura davvero molto molto bella mi è piaciuto molto questa diciamo unione dei due tratti per andare così a rendere l'opera molto più a un filone continuo di quello che si è lasciato anni comunque fa in realtà all'inizio temevo un po' questa cosa conoscendo il fatto che le Clamp hanno cambiato un po' stile di disegno rispetto a quelle che sono state le opere che abbiamo conosciuto negli anni 90 Reggie Veda, Magic Night, Rayart, Tokyo Babylon X e appunto Carcatto Sakura avevo quasi paura che in qualche modo il tratto fosse stato molto snaturato diciamo fra rigolette rispetto a quello che era meraviglioso all'interno di Carcatto Sakura invece sono riuscite comunque a renderlo il più simile possibile tenendo comunque anche quello che è il loro tratto e questo dettaglio mi è piaciuto moltissimo se mi seguite già comunque dallo scorso anno saprete che l'anime di Claire Carr inizialmente non mi aveva preso tantissimo nonostante comunque per un fattore nostalgia mi piacesse lo stesso comunque moltissimo nonostante lo trovassi in certi punti abbastanza noioso o comunque andasse in qualche modo a tirarla un po' troppo per le lunghe per alcuni dettagli questo volume sicuramente essendo comunque la parte originale da cui deriva poi l'anime non fa eccezione ma siamo comunque all'inizio e in qualche modo inizialmente comunque prende molto e lascia molto quello che è il mistero che si può trovare all'interno di questa storia un mistero che comunque andrà letteralmente a sovrastare quella che è la quotidianità della nostra protagonista portandola comunque a vivere nuove avventure e i nuovi misteri che la vedono letteralmente protagonista e che la porteranno in qualche modo a dover di nuovo combattere contro un'entità sconosciuta forse ancora più sconosciuta di quello che ha affrontato fino ad adesso ovviamente mi sento di consigliarlo a chi già ha letto Car Car to Sakura di cui vi consiglio calorosamente il recupero se ancora non l'avete fatto e magari avete visto solamente l'anime degli anni 90 oltretutto la versione italiana censurata, ipercensurata con dialoghi cambiati, insomma le solite censure che la mediaset ci ha portato qua in Italia quindi vi consiglio calorosamente intanto di recuperare la prima parte della storia che ovviamente è quella più famosa, quella più importante, quella più classica all'interno del panorama manga per quanto riguarda ovviamente lo shoujo ma giocco e per quanto riguarda comunque anche la bibliografia delle Clamp secondo me è una delle loro opere più belle e complete sotto molti punti di vista che va a incarnare molto bene la maggior parte di quelle che sono le tematiche che troviamo all'interno delle loro opere in maniera sì molto semplice comunque è un'opera destinata a un pubblico di più piccoli rispetto al loro solito target per quanto riguarda le loro storie e proprio per questo motivo rivolte sia un pubblico più giovane ma allo stesso tempo in maniera molto più semplice perché possa essere papabile anche per loro senza essere troppo invasivo e quindi gestito molto bene dal mio punto di vista e ovviamente qua il loro modo di raccontare non cambia assolutamente da quello a cui eravamo abituati nella prima parte di Car Capo Sakura quindi ovviamente se avete già letto la prima parte di Car Capo Sakura non potete certo farvi scappare questa nuova serie che ci terrà compagnia per ancora non si sa comunque quanto tempo però io sono davvero molto contenta che finalmente sia giunta anche in Italia vi ringrazio ancora la Star Comics per aver dato la possibilità di leggerlo e di parlarvene poi ovviamente andando avanti col tempo parleremo anche degli altri volumi man mano che usciranno in fumetteria come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like e iscrivervi così a non perdervi i prossimi video qua sotto trovate tutti i miei link utili ai miei social il volume linkato con la mia affiliazione ad Amazon nel caso vogliate qualche informazione in più e o vogliate in qualche modo acquistarlo noi ci vediamo prossimamente sul canale con nuovi video vi mando un bacione grandissimo e alla prossima ciao 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 ciao